gloria al nome del signor alleluia carissimi la grazia eccoci di nuovo ci dividiamo alleluia per la misericordia di dio io vi saluto nell'amore del signor nostro e salvatore nostro gesù cristo alleluia e a lui sia la lode l'onore e la gloria da ora in eterno io alleluia volevo condividere con voi il proseguimento di questi video che ho già cominciato un po di tempo fa e voglio confessare che il nemico il diavolo il satana che il signore gli sgrid di alleluia ha provato di tutto di più affinché io mi fermi di queste riflessioni così importanti affinché io alleluia interrompo queste queste riflessioni perché la cosa principale carissimi nella grazia è che satana vuole tenere l'uomo lontano dalla verità dalla parola di dio e questo lui lo farà con tutti i mezzi disponibili per questo io voglio ancora ricordarvi che lui ha provato a ostacolarmi diverse volte e per questo che ci troviamo in questo arco di distanza tra l'ultimo video che è stata fatta all'incirca due mesi fa e questo ripresa del tema che stavamo trattando alleluia riguardo alle rivelazioni potenti alleluia dell'opera che cristo ha compiuto nella vita dell'uomo e io ringrazio il signore che alleluia finalmente mi ha concesso la grazia che possa riprendere di nuovo queste meditazioni così tali molti importanti dico molti importanti perché condivido la mia testimonianza la mia esperienza che a me hanno servito diciamo in una maniera particolare ed eccessiva per poter aprire gli occhi a comprendere certe cose sottile nella dottrina della parola di dio e per poter fare un confronto con la dottrina della parola dell'uomo perché noi sappiamo che oltre la parola di dio c'è anche la parola dell'uomo oltre la dottrina di dio c'è anche la dottrina degli uomini e noi siamo chiamati a distinguere a discernere ciò che proviene dallo spirito e ciò che proviene dalla carne ovviamente per fare questa distinzione è necessario di un elemento fondamentale alleluia che noi per meriti non la possiamo mai avere né acquistare però per la grazia per l'umiltà per la sottomissione noi la possiamo ricevere alleluia dalla parte dello spirito santo c'è la conoscenza della verità poi noi ricordiamo che nella parola di dio sta scritto che la verità vi renderà liberi allora vediamo qua carissimi fratelli sorelle e voi amici parenti chi chiunque sentirà questi video perché sono pubbliche affinché tutti possano avere accesso alleluia i commenti sono sempre aperti anche ai sul a insulti anche alle offese perché i figli di dio aspettano anche questo lato purtroppo negativo però devono sopportare alleluia perché il nostro signore ci ha insegnati così sopportate con pazienza ogni persecuzione alleluia perché un grande ricompenso ne avremo nei cieli alleluia io senza perdere tempo vorrei rientrare l'altra l'ultima volta che abbiamo fatto questi meditazioni noi abbiamo parlato alleluia gloria al nome del signore dimorare in lui del tema dimorare in lui e io ho promesso che riprenderemo questo video alleluia con la potenza di separazione della croce allora dal dal titolo stesso allora vogliamo vedere con attenzione che la croce la croce carissimi ha una potenza a volte diventa difficile a capire a volte diventa impossibile a percepire però a volte diventa anche pesante però il signore come è mansueto e umile di cuore ci ha dato la grazia di poter parlare riguardo a queste rivelazioni con umiltà fratelli con semplicità senza tante diciamo parole grandi senza tante complicazioni affinché anche i semplici possono comprendere ciò che vuole dire la parola di dio ciò che vuole rivelare ancora in questa sera la parola di dio e vogliamo accostarci a lui alleluia con la grazia che gli stesso ci ha dato affinché possiamo comprendere e questa parola possa penetrare al profondo del nostro cuore della nostra anima e possa diventare una luce fratelli allora io voglio ripetere ciò che ho detto anche nei video precedenti io non sono un professore della legge io non sono un dottore della legge non sono un apostolo sono un umile servo del signore che quello che il signore mi ha rivelato e la potenza di quella opera che ha trasformato la mia vita e tuttora la tiene strettamente afferrata la voglio condividere affinché possa essere utile a qualcuno può darsi tanti sono già nella giusta via tanti sono già nella giusta rivelazione nella giusta comprensione però sono certo che ci sono ancora tanti che hanno problemi della rivelazione ancora tanti vogliono ancora comprendere come e cos'è successo su questa croce e per questo il signore mi ha messo nel cuore di poter condividere con voi questa meditazione così meravigliosa ma nello stesso tempo molto importante e molto potente per il nostro futuro ripeto tutto ciò che noi condividiamo tutto ciò che i pastori predicano tutto ciò che i dottori insegnano insegnanti insegnano ha a che fare con la vita futura fratelli e voi amici non ha a che fare con questa vita ma a che fare con la promessa per entrare nella vita futura alleluia anche se noi godremmo dei benefici in questa misera vita che è rimasta da vivere ancora su questa terra però l'importanza dell'insegnamento della parola di dio è per preparare l'anima all'uomo a mettersi in una tal posizione affinché abbia la possibilità abbia la conoscenza e abbia anche la certezza della vita eterna alleluia perché la vita eterna è una promessa che pian piano camminando con il signore crescendo nella sua grazia diventerà una certezza alleluia e per questo ringraziamo il signor nostro Gesù Cristo e ringraziamo profondamente perché ci ha lasciato tutto il suo insegnamento scritto e abbiamo visto questo insegnamento compiuto nella vita dei uomini come noi nella vita dei apostoli nella vita dei discepoli e tanti ancora uomini dei nostri tempi che hanno vissuto una vita santa con il signore ecco fratelli che ora che noi parliamo ci sono ancora uomini che vivono una vita santa con il signore e il signore alleluia il signore per la per togliere la curiosità di alcuni che entrano nel termine le religiosità il signore li chiama da ora santi allora vediamo che ci sono santi che sono ancora in vita ecco questi sono tutti i figli di dio che il signore alleluia li ha lavati e li ha purificati con il sangue del tuo figlio allora vogliamo cominciare questo meditazione sulla croce e sulla potenza della separazione della croce alleluia allora voglio ricordarvi che il regno di questo mondo non è il regno di di alleluia dio aveva stabilito un sistema universale un universo di sua creazione che doveva avere per capo cristo suo figlio la vogliamo leggere questo nel libro nella lettera ai colossesi nel capitolo 1 del verso 16 e 16 poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e quelli che sono sulla terra le cose visibili e quelle invisibili sia trono sogneri signorie o principati o potestà tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui e li è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui gloria al suo nome alleluia allora vediamo che non è rimasto così come dio lo creò questo mondo e come dovevano andare le cose purtroppo c'era qualcuno che ha cambiato la storia alleluia che dio gli sgridi e questo si chiama satana è il mio amico delle nostre anni allora satana operando attraverso la carne dell'uomo ha stabilito invece un sistema rivale un sistema rivale che le scritture la chiamano il mondo un sistema nel quale siamo coinvolti e su quale egli domina perché è divenuto come viene descritto nel vangelo di giovani capitolo 12 verso 31 lui è divenuto il principe di questo mondo allora vedendo un po dal titolo stesso la potenza della separazione della croce allora vediamo che a questo pochi frasi che abbiamo detto all'inizio ci sono due mondi questo che dio ha creato e doveva essere secondo il suo disegno e questo che si è creato a causa della caduta dell'uomo ed è la rinascita della carne allora della natura del peccato allora vediamo che questo regno rivale dio lo chiama mondo allora vediamo che questi due regni camminano paralleli se camminano in due rette linee però non si incontreranno mai allora vogliamo vedere questi due creazioni la creazione principale secondo quello che abbiamo letto nella letra dei corinzi dei colossesi scusatemi 1 16 e 17 e la creazione seconda secondo quello che diavolo ha fatto nell'uomo allora così per l'opera di satana le la prima creazione è diventata la vecchia creazione che non ha più interesse per il signore le interesse di dio è ormai concentrato sulla seconda e nuova creazione un nuovo regno un mondo nuovo nel quale nulla del vecchia creazione dell'antico regno o dell'antico mondo può essere trasferito alleluia bisogna ora considerare questi due regni rivali e vedere a quale di essi noi apparteniamo e lo scopo di questa meditazione è questa di mettersi continuamente in bilancio continuamente la nostra vita la nostra fede il nostro cammino il nostro operato di mettersi sempre in bilancio con la parola di dio però qua si tratta di due posizioni principali allora l'interesse di dio adesso non è più su concentrato su questa vita come vi ho detto anche prima la lo scopo della predicazione del vangelo non è di questa vita perché Gesù quando predicava il vangelo disse pubblicamente io non sono di questa vita le parole che io vi dico non provengono da me ma provengono dal padre che lui me li ha dati allora l'interno della predicazione è a preparare l'anima dell'uomo e portarla alla conoscenza di questa vita perfetta meravigliosa che dio ha disegnato che debba resursistere in eterno allora dio vedi vediamo che dio non è venuto mancante nei nostri confronti anche se noi siamo degradati siamo caduti decaduti nel questa vita misera che è condotta dalla carne che è condotta dal peccato e che si chiama in questo regno siamo attrascinati in questo regno che si ormai è concentrato sulla seconda creazione ecco perché dobbiamo vedere da vicino di quale di due creazioni di quale di quale di questi due creazioni di di quale di questi due mondi noi apparteniamo carissimi allora lui è molto importante di conoscerlo questo perché poi la bibbia ci da tante affermazioni un po molto pesanti e poi man mano avanti li ricorderemo e li citeremo anche questi alleluia allora vediamo certo che l'appostolo paolo non ci lascia in dubbio su quale di queste due domini sia ora il nostro alleluia gloria a dio e gli dice che il signore nella redenzione alleluia andiamo a leggere cosa fece il signore nella reddenzione andiamo sempre la lettera dei colossesi capitolo 1 verso 12 e 13 rendendo grazie al padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce alleluia gloria a dio poiché elli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio vediamo carissimi quante meraviglioso che dio non ci ha dimenticati ma aveva già preparato un nuovo regno per noi allora questo nuovo regno comincia con l'opera di cristo e non finirà mai per l'eternità ha già cominciato questo nuovo regno qua in terra perché noi ancora siamo qua intera e stiamo vivendo questo nuovo regno perché il nostro corpo è morto non appartiene più al vecchio regno a quello che ci teneva nella schiavitù alleluia per questo apposto lo paolo ci ricorda nella lettera dei colossesi lui ci ha trasportati alleluia perché elli ci ha riscossi colossesi 1 13 lei lui ci ha riscossi alleluia dalla potestà delle tenebre ricordate lo carissimi è molto importante ricordare sempre questo verso ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio alleluia ma per farci entrare in esso alleluia allora prima volevo dire che entrando in questo regno secondo la promessa di dio e secondo lo scopo dell'operato che dio ha fatto allora la cittadinanza nostra d'ora innanzi non è più di questo mondo di questo regno decaduto ma è alleluia del regno di dio e del regno del suo amato figlio gloria al suo nome grazie signore alleluia ma ecco qua dobbiamo a volte tante volte affrontarci i ma di dio e i se di dio alleluia e io lo ringrazio al signore perché prima non riuscivo a comprendere il ma e il se di dio il ma e il se di dio proponeva a me una condizione e la stessa che propone anche a te una condizione allora se non ci troviamo in questa condizione non possiamo goderne dei benefici dell'opera compiuta ecco perché dio sempre quando vuole fare una riprensione dice il ma quando da un insegnamento dice il ma alleluia allora per farci entrare in esso dio deve compiere in noi qualche cosa di nuovo deve fare di noi delle nuove creature alleluia noi non possiamo appartenere al nuovo regno senza essere creati di nuovo oh alleluia quel che è nato dalla carne dice apostolo giovanni evangelista giovanni nel capitolo 3 verso 6 dice questo che è nato dalla carne e carne è carne è molto importante che con il volere sempre e il desiderio tenere anche gli appunti tenere anche gli appunti perché certe cose carissimi nella grazia li dobbiamo ricordare continuamente ciò che è nato dalla carne e carne e poi vogliamo leggere ancora nella prima corinzi un'affermazione molto importante ancora nel capitolo 15 verso 50 alleluia prima corinzi 15 50 o signore alleluia or questo dico fratelli che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di dio similmente la corruzione non ereditare l'incorrutibilità carne e sangue c'è la bibbia appoggia a se stesso giovanni ha scritto che ciò che è nato dalla carne e carne è destinata alla morte poi apostolo paolo ci ricorda che carne e sangue non erediteranno il regno di dio vediamo ancora una volta che dio ha preparato un nuovo regno però ha proposto il ma alleluia ma per far entrarci in questo regno dio deve fare di noi delle nuove creature perché ciò che è carne non può ereditare il regno di dio come abbiamo anche letto alleluia quale sia il livello del suo sviluppo della sua cultura del suo valore la carne resta sempre carne la nostra possibilità di appartenere al nuovo regno dipende dalla creazione alla quale apparteniamo voglio ripetere questo alleluia la nostra possibilità per appartenersi alleluia al nuovo regno dipende dalla creazione della quale noi apparteniamo cosa significa apparteniamo alla vecchia creazione o alla nuova creazione la vecchia creazione abbiamo detto che è decaduta è destinata alla morte ma la nuova creazione è la creazione del figlio suo amato che abbiamo letto nel Colossesi capitolo 1 verso 13 nel regno del suo amato figliolo è una cosa nuova alleluia siamo nati dalla carne o dallo spirito la condizione definitiva per appartenere al nuovo regno dipende dalla nostra origine ogni cosa ha un'origine alleluia abbiamo scavato qual è la nostra origine lo stato che noi stiamo vivendo a chi appartiene da dove provengono cioè le potenze che ci stanno tenendo in vita ecco perché la parola di Dio separa queste due entità come abbiamo ricordato prima sono due regni che camminano in parallelo però non si incontreranno mai per l'eternità non si incontreranno mai ecco perché è importante che noi mettiamo l'enfasi alla rivelazione di questi due regni e fare questa domanda a quale di questi noi apparteniamo alleluia io faccio una breve testimonianza ero convinto di appartenere al regno di Dio per ben 18 lunghi anni ma poi ho scoperto che io appartenevo al regno delle tenebre io ero perduto non sto adesso a dire i particolari volevo solo fare questa confessione io ero convinto di appartenere al regno del suo amato figlioli ero convinto ma purtroppo non era così quando i miei occhi furono aperti io ho visto che apparteneva io appartenevo al regno della perdizione è lì che ha cominciato un grande combattimento dentro di me perché la voce dell'inganno voleva resistere alla voce della verità e succede sempre così Satana si oppone alla verità Satana vuole tenere i uomini lontani dalla verità e io ero un credente senza la verità perché io non avevo bisogno della parola di Dio perché avevo racquistato alcune conoscenze e mi bastavano per poter parlare con le persone per poter parlare con i fratelli per poter dare un consiglio per poter fare un'esortazione ma ho visto che questa era una nullità io stavo vivendo in un sogno io ero lontano dalla verità ecco perché dobbiamo vegliare carissimi nella grazia finché non cadriamo preda di questo inganno del Satana allora l'arma principale del Satana è di tenere l'uomo lontano dalla verità perché abbiamo detto che nella Bibbia nella parola di Dio sta scritto che soltanto la verità può rendere libera un'anima solo quando viene in conoscenza della verità ecco perché Satana ingana tanti credenti sono oggi nelle chiese che non leggono la Bibbia perché la voce dell'ingano è in atto la voce del nemico è in atto non abbiamo più bisogno a me mi fu detto dai anziani non voglio fare i nomi ma ho vissuto un periodo della mia vita breve in un'altra città e siamo stati ospiti dei credenti e quando io andai a casa loro con la parola di Dio a mano e volevo confessare sì ma non c'è bisogno della parola ormai noi sappiamo tutto questa è la voce dell'ingano noi non possiamo neanche un giorno solo vivere lontani dalla parola di Dio è impossibile carissimi e io vi esorto che chiunque vi dà questo consiglio rigettatelo e rigettatelo noi non possiamo vivere lontano dalla parola di Dio la parola di Dio è la nostra anima è il nostro respiro alleluia come fa Dio a parlare noi se non ci troviamo davanti alla parola di Dio alleluia allora la condizione definitiva per appartenere al nuovo regno dipende dalla nostra origine non dipende da chi è buono o cattivo ma dalla carne o dallo spirito la Bibbia non parla quando fa differenza tra due regni tra due nature tra due creazioni non mette in nota che quelli che sono buoni appartengono alla nuova creazione questi che sono non buoni appartengono alla vecchia la parola di Dio mette l'enfasi nella carne ecco perché l'Apostolo Giovanni disse che ciò che è nato dalla carne è carne e rimarrà sempre carne alleluia e non sarà mai altrimenti ciò che appartiene alla vecchia natura non potrà mai passare nella nuova creatura comprendetemi per favore perché ho avuto da discutere a volte con gli insegnanti di una certa scuola biblica che volevano spiegare la nuova creazione come una nave che aveva avuto dei buchi perché era sbattuto nelle scogliere e allora Dio lo ha preso noi siamo come questa nave che Dio lo ha preso ha chiuso dei buchi l'ha verniciato questa è una bugia del Satana noi siamo nuove creature noi non siamo più questa relicchè riparata saldata verniciata e messa in navigazione noi siamo delle nuove navi da combattimento alleluia gloria al suo nome noi siamo soldati di Cristo siamo creature nuove è difficile io comprendo che è difficile credere questo tipo di parlare è difficile a percepire questo tipo di parlare perché tante volte tanti anni siamo stati insegnati con queste erranti dottrine che qua c'è un diavoletto qua c'è un angioletto e loro combattono e finché saremo su questa carne noi saremmo deboli cadremo no fratelli no 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 la parola di Dio fa una distinzione il Signore dice ma ma per entrare nel nuovo mondo nella nuova creazione l'uomo deve nascere di nuovo alleluia gloria al suo nome l'uomo deve nascere di nuovo gloria al suo nome allora da quanto abbiamo realmente compreso ciò che Dio cerca cioè qualcosa di profondamente nuovo per lui solo alleluia grazie Signore aiutaci Padre a comprendere queste parole così profonde Signore alleluia Dio vuole una cosa nuova per lui solo Adamo non era di sua moglie non era degli animali Adamo era di Dio prima che lui pecasse Dio ha creato una creatura in cui poteva essere compiaciuto il suo cuore Dio adesso sta riportando una creazione simile a quella prima prima del peccato allora ha mandato il Cristo la salvezza ha mandato la potenza che doveva caricare tutti i pesi del mondo affinché ogni cosa che doveva e ogni uno che per fede oltrepasserà la tomba e si risorgerà per fede non sarà più lo stesso è una nuova creatura in Cristo alleluia e questa cosa qua Dio lo ha fatto per lui stesso affinché il suo cuore sia compiaciuto perché noi adoriamo il Signore continuamente per far ralegrare il suo cuore alleluia perché noi ci sforziamo alleluia di tenere la fedeltà di rimanere fedeli a lui per compiacere a lui per prima e Dio sa quello che ha fatto Dio conosce la potenza della sua opera alleluia caro nella grazia se ancora non sei convinto che l'opera di Cristo è potente piega le tue ginocchie davanti davanti alla sua maestà e le ti darà rivelazione caro fratello abbandoni le voci ingannatrici che la carne vive ancora dentro di te questa è una voce di Satana tu sei una nuova creatura in Cristo alleluia la parola di Dio la conferma alleluia ciò che è nato dalla carne è carne ciò che è nato dallo spirito è spirito e queste due cose queste due creazioni non hanno nulla in comune alleluia l'insegnamento della parola di Dio è per preparare l'uomo alleluia per preparare l'uomo gloria al suo nome a poter entrare per la porta stretta ma l'uomo non può non può da sé ma il padre con la sua misericordia ha mandato una potenza fratelli e voi amici Dio ha mandato lo spirito santo non si vede a occhio non si tocca a mano alleluia ma si vede tramite la vita di chi c'hai di fronte perché la potenza di spirito santo una volta seduta nel trono della vita dell'uomo trasforma continuamente alleluia trasforma continuamente alleluia Dio cerca cioè qualcosa di profondamente nuova per lui il solo alleluia vediamo chiaramente che noi non possiamo apportare in questa nuova nascita nessun elemento dell'antica natura non possiamo trasformare come fece la 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 Rebecca scusatemi la la moglie di Giacobbe mi perdonatemi mi sfugge il nome non la Rachele sua sorella quella che era la moglie che doveva essere la moglie di Giacobbe lei voleva entrare nella nuova vita con suo marito attascinando dietro gli idoli di suo padre e li aveva nascosti il Signore dice che nulla della vecchia vita può essere attrascinato nella nuova gloria al suo nome Dio voleva averci per sé ma non poteva farci entrare nel suo piano così come noi eravamo così prima di tutto ci fece morire per mezzo della croce fate fate attenzione vi imploro per favore Dio non poteva farci entrare nella nuova creazione come eravamo così lui ha dovuto farci morire per mezzo della croce e poi e poi non è finito lì l'opera di Dio Cristo non è rimasto morto gloria al suo nome alleluia ma poi alleluia con la risurrezione ci donò una nuova vita allora l'assegnato della vittoria fratelli e voi amici non è nel morire soltanto ma è nella risurrezione di Cristo lì abbiamo acquistato la vittoria Cristo è seduto alla destra del padre aderiso al diavolo in faccia e gli disse o morte dove la tua vittoria ecco qual è la potenza dell'opera di Dio credi per favore l'opera che Cristo ha compiuto è potente ed è reale di trasformare la tua vita anche se può darsi da tanti anni tu credi ma non vedi una tale opera compiuta in te fermati ti prego te lo dico nell'amore del Signore non sono un giudice ma ti voglio tanto bene nell'amore di Cristo e non voglio che tu cammini nell'errore come io ho camminato per 18 anni fermati e vedi le radici a quale creazione tu appartieni a quale di queste due creazioni tu appartieni alla carne o allo spirito non è solo la bocca che fa di noi uomini spirituali ma è questa vita nascosta è questa vita invisibile alleluia a te ma visibile a tutti gli altri che sono di fronte a te gloria al nome del Signore alleluia allora se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura alleluia le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove seconda corinzi 5 17 avete sentito cosa afferma la parola di Dio se uno è in Cristo caro fratello se tu dici di essere in Cristo alleluia allora tu devi essere una nuova creatura per intero le cose vecchie dice la parola di Dio sono andate oltre ecco sono diventate nuove essendo ormai delle nuove creature con una nuova natura alleluia alleluia l'enfasi alla parola natura perché la natura non è una semplice parola è la vita che vive dentro di te perché prima viveva la natura della carne e produceva continuamente opere della carne oggi vive la natura di Cristo e produce sempre opere spirituali alleluia che servono per pacificare per riconciliare per perdonare per amare vedi sono contrari delle opere della vecchia natura alleluia ed un insieme di facoltà nuove possiamo entrare nel nuovo regno e nel nuovo mondo la croce è stata il mezzo del quale Dio è servito per porre fine alle vecchie cose la croce è stata il mezzo divino che Dio ha usato per porre fine alle vecchie cose quale siano le vecchie cose quale sono le vecchie cose perché a volte facciamo fatica anche a comprendere perché certe vecchie cose sono talmente piccole che noi non diamo importanza e li attrasciniamo o almeno ci inganniamo che li possiamo attrascinare nella nuova nascita ma il Signore dice nulla del vecchio entrerà nel nuovo allora facciamo l'esame della nostra coscienza allora mettiamo l'esame fratelli tutto il nostro essere il nostro carattere è trasformato interamente non parzialmente non 90 99 virgola 99 per cento ma 100 per cento ora in te c'è il carattere di Cristo perché tante piccole di queste piccole cose che dicevo prima sono legati strettamente al carattere dell'uomo allora è trasformato interamente il nostro carattere alleluia allora la croce è stata il mezzo il quale Dio ha porso alla morte alla fine le vecchie mettendo interamente da parte il nostro vecchio uomo questa è l'opera della croce ha messo interamente a morte il vecchio uomo ripeto questa è l'opera della croce ha messo interamente a morte il vecchio uomo ricordati perché tu professi di essere una nuova creatura alleluia e la resurrezione dice è il mezzo con il quale Dio ci ha dato tutto quello di cui avevamo bisogno per vivere in questo nuovo mondo alleluia gloria a Dio alleluia alleluia allora vogliamo leggere un verso meraviglioso alleluia che sta scritto nella lettera ai romani capitolo 6 verso 4 noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battezzimo nella morte alleluia affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del padre così anche noi camminiamo in novità di vita alleluia novità di vita alleluia gloria al nome del Signore la grande negazione del universo è la croce quello che vuole negare tutto il mondo è la croce vuole togliere la croce che Dio abbia misericordia perché per mezzo di essa Dio ha cancellato tutto quello che non era suo per mezzo della croce Dio ha cancellato tutto quello che non era suo alleluia gloria al suo nome benedetto sia il suo nome il fatto più positivo nell'universo è la risurrezione carissimi alleluia mettiamo nota su questo fattore la risurrezione alleluia perché per essa Dio ha messo in esistenza tutto quella che voleva avere nel nuovo mondo così la risurrezione rimane la soglia della nuova nascita gloria al suo nome se noi abbiamo creduto per fede che siamo morti in una morte simile alla sua per poter averla liberazione dal peso del peccato allora per la stessa fede noi crediamo che come Cristo è risorto come abbiamo letto in novità di vita alleluia anche noi siamo risorti insieme a lui alleluia gloria al suo nome in novità di vita alleluia allora la risurrezione è la soglia della nuova nascita gloria al nome del signore è una benedizione di vedere che la croce pone fine a tutto quello che apparteneva al primo regime e che la risurrezione introduce alleluia quello della risurrezione alleluia allora la risurrezione introduce quello che è adatto al secondo mondo alla seconda creazione la croce ha posto fine ha messo ha escluso quello che apparteneva al vecchio e la risurrezione ha aperto la porta a tutto ciò che serve per entrare nel nuovo mondo alleluia ecco perché è necessario una nuova nascita gloria al nome del signore siamo ora alla presenza di due mondi l'antico e nuovo sull'antico satana esercita una sovranità assoluta ricordiamoci l'opera della croce non ha tolto i peccati dal mondo ma li ha fatti morire soltanto per coloro che credono e loro soltanto saranno liberati dal peccato ma il peccato è là fuori bussa continuamente nella nostra porta perché vuole entrare ecco perché dobbiamo veliare ecco perché oggi cade categoricamente questa dottrina che ci sta predicando nelle chiese che adesso è l'ora del sono che la chiesa deve stare in silenzio questa è una bugia fratelli svegliatevi per favore ve lo chiedo nell'amore del signore il peccato è là fuori alleluia il peccato è lì che bussa continuamente come fai a dormentarti come fai riposare come fai dormire come fai stare così tranquilla in silenzio quando le anime muoiono ogni giorno e hanno bisogno della verità alleluia però comunque questo è un'altra tema allora abbiamo detto che siamo ora alla presenza di questi due mondi allora l'antico è nuovo sull'antico sappiamo che satana esercita una sovratità assoluta voi potete essere un uomo buono nella vecchia natura ma finché vi rimarrete alleluia finché vi rimarrete sarete sotto una sentenza di morte questo è un po' indirezzato anche al mondo religioso che appartengono alla religione cattolica ortodossa o tanti altri vari denominazioni religioni che non conoscono per esperienza la nuova nascita tu puoi essere un uomo buono però sappi che sei sotto la condanna a morte perché il mondo in cui tu fai parte è condannata a morte ciò che è carne andrà alla morte ecco che la bontà del cuore dell'uomo senza la presenza di Dio non vale a nulla andrà lo stesso alla morte dice la parola di Dio alleluia carissimo perché nulla del vecchio può passare nel nuovo attraverso la croce Dio dichiara che tutto quello che è della vecchia natura deve morire a posto un ostacolo davanti a te cara anima che odi questo messaggio e che ancora non hai fatto un pato con il Signore il Signore oggi ancora vuole ricordarti anche se tu sia una buona anima una buona persona con un cuore dolce che fai carità che aiuti il tuo prossimo se tu appartieni alla vecchia natura purtroppo tutto ciò che tu hai andrà alla morte questo l'ha decretato l'eterno non io non un predicatore l'ha decretato l'eterno ciò che è del vecchio non può passare alla nuovo attraverso la croce Dio dichiara che tutto quello che è della vecchia natura deve morire nulla di quello che è stato nel primo Adamo può passare oltre alla croce comprendete questo che sto dicendo nulla ciò che è del primo Adamo può oltre passare alla croce allora se noi confessiamo che siamo morti al peccato e vediamo che il peccato signoreggia ancora nella nostra vita significa che noi non siamo morti realmente al peccato perché Dio decreta che nulla della natura di Adamo entrerà nella natura di Cristo Cristo in cielo non ha portato neanche un peccato neanche un peccato tutto quando lo ha lasciato alla croce ecco perché nulla del vecchio oltrepasserà la croce ecco che ancora il Signore ci sta proponendo un esame un esame della nostra fede della nostra coscienza gloria al suo nome alleluia allora prima lo vedremo questa cosa meglio sarà perché attraverso la croce il Signore ha aperto la via per liberarci da questa vecchia natura egli ha riunito tutto quello che era in Adamo nella persona di suo figlio e lo ha crocifisso ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo alleluia grazie Padre alleluia grazie Signore infinitamente alleluia mille vite non ci basteranno mai di poter ringraziarlo che lui ha fatto morire l'Adamo che era in me alleluia ha fatto risorgere di nuovo il Cristo che era stato scacciato via a causa del peccato la sua presenza il suo spirito questa è la gioia più grande fratelli alleluia ricordatevi quando Gesù disse agli apostoli al ritorno dalle opere potenti guarigioni risurrezione dei morti scacciando dei demoni ma Gesù gli disse una cosa sola non rallegratevi perché i demoni vi sono stati sottomessi ma rallegrati che il tuo nome è scritto nei cieli alleluia gloria al suo nome e il nostro nome è scritto nei cieli soltanto soltanto per mezzo della croce se ancora non hai attraversato la croce fermati ti prego esaminati non è una vergogna né davanti alla chiesa per poter esaminare il tuo cammino perché il tuo cammino farà il tuo destino le tue scelte faranno il tuo destino non sarà la chiesa a rimanere fuori sarai tu a rimanere fuori ecco perché un elemento sano può essere utile per il corpo e se tutti gli elementi siano sanni questo corpo sarà sanno alleluia non per i meriti non per forza ma per lo spirito di Dio alleluia e mi avvio verso la conclusione alleluia allora egli ha riunito tutto quello di Dio di Dio di Dio